Buonasera a tutti carissimi amici, sono felicissima e voglio dirvi una cosa adesso, Misilmeri evviva! Evviva Misilmeri! Ce l'abbiamo fatta, siamo qui di nuovo in questa bellissima campagna elettorale a combattere una partita che è 0 a 0! Adesso si ricomincia da capo, abbiamo dimostrato che nonostante le truppe cammellate a Misilmeri ci sono persone libere che hanno votato liberamente Giovanni Lofranco, sindaco! Abbiamo dimostrato con le nostre liste che nonostante le illazioni che sono state fatte durante la campagna elettorale, i nostri consiglieri sono persone libere che hanno portato un voto libero al nostro Consiglio Comunale e quindi adesso dobbiamo continuare in questa battaglia di libertà per riportare a Misilmeri il futuro e restituire il futuro alle nuove generazioni e stiamo stati privati in tutti questi anni della speranza, della possibilità di costruire una società civile libera da tutte le magagne a cui purtroppo siamo stati abituati, ma voi dobbiamo ribellarci a questo, sono sicura che ce la faremo. Voglio dire una cosa veramente con il cuore, ieri camminavo in un paese nel quale, diciamo, che frequento molto spesso per questioni sentimentali, è Castellammare del Golfo e osservavo le piazze di questo posto, osservavo gli angoli, osservavo i piccoli scorci del paese e mi è venuto un attimo un magone, dicevo ma perché? Perché esistono luoghi in questa nostra Sicilia dove è stata conservata la bellezza? E perché il mio paese è stato così violentato ed è stato privato della bellezza? Noi dobbiamo riportare la speranza ma anche la bellezza in questo posto, dobbiamo valorizzare i nostri angoli, dobbiamo avere cura del nostro spazio, dobbiamo dare la possibilità ai tanti artisti che vivono misilmieri, penso per esempio ad Ernesto Graditi, penso a Enzo Garofalo, dobbiamo coinvolgere queste persone, come dire, utilizzare la loro esperienza, il loro spirito per riportare l'anima in questo posto e dobbiamo essere tutti quanti noi capaci di coinvolgere le migliori energie di misilmieri perché ci aiutino a portare avanti un progetto di rinnovamento vero, perché l'unico rinnovamento per questo paese siamo noi, è il sindaco Lofranco, è inutile che ci dicono il contrario, perché siamo solo noi che possiamo cambiare questo posto. Un'altra cosa su cui riflettevo è questa, dobbiamo dare la possibilità ai giovani di lavorare a misilmieri, dobbiamo dare la possibilità ai nostri ragazzi di costruire una propria professionalità, non sulla base della solita clientela per cui ancora le scorse lezioni, la settimana scorsa sentivo dire che c'erano personaggi che andavano in giro a chiedere i curricula, per piacere smettetela di illudere i ragazzi con i curricula, ma chi li legge questi curricula, ma chi li guarda? E soprattutto ditemi una cosa, mi spiegate perché un giovane anziché portare il curriculum presso un'azienda deve consegnarlo in mano a qualche padrone che in qualche modo intermedia con le aziende? se esiste un posto di lavoro vero, l'azienda non chiede a qualcuno di fare la ricerca delle risorse umane, è una fesseria, mettetevelo in testa, ci hanno preso in giro per anni con questo metodo e allora quello che dobbiamo fare cos'è? Vi porto un'esperienza personale, voi sapete che io sono amministratore di un consorzio di cooperative sociali che gestisce beni confiscati e la mafia, il nostro fiore all'occhiello è qui vicino a Misilmeri, è in un paese a due passi, Altavilla Milica, è un bene che è stato confiscato a un prestanome di Provenzano, è una villa extra lusso, straordinaria, strapiombo sul mare, una cosa meravigliosa, si chiama Cambiorrotta, sicuramente i ragazzi lo conoscono, è diventato un centro culturale polivalente, il nome gliel'ho dato io e il progetto l'ho scritto io e insieme a un gruppo di cooperative siamo riusciti a trasformare quel posto in un bene produttivo che dà posti di lavoro a venti giovani. Questi sono fatti, non c'è dietro nessun politico, c'è soltanto la capacità di mettere a sistema l'intelligenza e la volontà e l'onestà e di utilizzare i beni che sono stati sottratti grazie allo Stato, grazie all'azione dello Stato che sono stati sottratti alla criminalità organizzata e a Misilmeri i beni confiscati non sono utilizzati e noi dobbiamo batterci per questo, dobbiamo dare i beni confiscati ai giovani ma non per fargli fare le passeggiate ma guidarli per creare impresa sui beni confiscati, sui terreni confiscati, ci sono esperienze importanti, quelle di libera sui terreni confiscati, queste cose si possono fare e soltanto chi è veramente libero può agire in maniera chiara dicendo chiaramente da che parte sta. Ovviamente non trattiamo l'argomento fondi comunitari, no? Non si capisce per quale ragione in questo Paese tutto rimane immobile, non c'è capacità progettuale, non c'è capacità di organizzazione e quindi questo comune per anni è rimasto immobile non utilizzando e neanche partecipando alle opportunità che la comunità europea continuamente mette a disposizione degli enti locali. Penso ad esempio ad un avviso che è la possibilità di accedere a dei fondi da parte dei comuni per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il comune di Misilmeri non ha partecipato, erano milioni di euro, sono rimasti alla regione o comunque ne hanno beneficiato altri comuni. Noi dobbiamo batterci, dobbiamo creare all'interno di questa macchina amministrativa uno staff di persone competenti che riescono ad attivare risorse economiche perché le risorse economiche ci sono ma ci vogliono gli amministratori illuminati e intelligenti che anziché ragionare sul fatto che sta cosa non sava fare, si deve ragionare sul fatto che sta cosa sava fare più forza. Allora, io sono certa, intanto volevo fare un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, a tutte le persone che erano in lista per il consiglio comunale. Sono tutte persone straordinarie che meritano un applauso uno ad uno perché ognuno di loro ha portato un piccolo e un grande contributo finché Giovanni diventi sindaco di questo paese. E volevo ovviamente fare un grandissimo in bocca al lupo ai due consiglieri che sono stati eletti, a Giuseppe Bonanno e a Roberta Tripoli. E adesso lascio la parola al mio amico Giusto Castro Rao. Buonasera. Il risultato elettorale di domenica scorsa ha delineato fondamentalmente due visioni del paese profondamente diverse, incompatibili l'uno dall'altra. Da una parte, e chiaramente faccio riferimento ai nostri avversari politici, c'è la cosiddetta vecchia Misilmeri, quella composta da leader e capetti politici che sono in seconda fila, non mettono la faccia e sperano che in caso di vittoria possano rientrare prepotentemente al palazzo e governare. Qui c'è la Misilmeri nuova, la Misilmeri composta che ha tratto fondamento dalle spinte associative, dal volontariato, dalle esperienze personali e politiche, ma anche dalle esperienze amministrative del passato, dalle buone esperienze politiche del passato. Ed evidentemente quando sento soprattutto in questi giorni il fatto che i nostri competitor tendano a definirsi coalizione di centro-sinistra, mi sento certamente un po' fuoriposto qui, ma in realtà la questione è ben diversa. Loro sostengono un falso, loro non sono il centro-sinistra, loro si definiscono alti esponenti del Partito Democratico, ma non hanno avuto la capacità di avere il simbolo del Partito dentro le liste. Hanno dovuto ripiegare in una lista civica e questi sono gli atti esponenti del Partito Democratico. È evidente che è una rappresentazione falsa quella che vogliono darci. Qui andiamo oltre le appartenenze politiche, qui andiamo oltre le appartenenze politiche, i muri ideologici. È chiaro che dinanzi a questo il nostro candidato sindaco Giovanni Lo Franco, proprio per andare oltre quelli che sono gli steccati della politica, ha voluto fortemente nominare quattro assessori subito, così per andare oltre quelli che sono i trattativi, i compromessi tipici di questo periodo. L'altra parte apparentemente ha fatto lo stesso, ma in realtà non è così nel concreto, perché uno dei componenti della Giunta ha un evidente stato di incompatibilità politica, visto che occupa un ruolo di consigliere comunale a Palermo e vorrebbe occupare il ruolo di assessore comunale qui a Misilmeri. È evidente che c'è una incompatibilità politica oltre che poi di natura tecnica, a cui certamente faremo anche riferimento. È chiaro che dinanzi a questo dobbiamo fare riferimento anche al fatto questo nuovo approccio della politica, abbiamo anche fatto riferimento a un nuovo approccio amministrativo, alla risoluzione dei problemi. Siamo uno strumento di speranza, uno strumento straordinario di speranza. Abbiamo scritto un programma, abbiamo fatto riferimento ai mille bisogni di questo territorio e abbiamo individuato soluzioni per raggiungerlo. È chiaro che votando noi, votando noi, certamente non avremo il rischio di un ulteriore scioglimento per infiltrazioni mafiose. È evidente che martedì 2 dicembre apriremo le porte dietro il palco e accoglieremo i nostri concittadini e ci rimetteremo a servizio di questa nostra comunità. Carissimi concittadini, buonasera e benvenuti. Sono onorata di trovarmi qui e di potervi parlare con il cuore in mano. E con il cuore in mano vi dico, Misilmeri svegliamoci! Riprendiamoci il nostro paese, Misilmeri è il nostro. E per poter fare questo il 30 novembre, il primo dicembre, dovete votare per questo giovanotto qui, per Giovanni Lufranco. Due sono le possibilità. o loro, o noi, o noi, di cui già conoscete le facce, o chi già questo paese comunque ha qualsiasi titolo, in qualsiasi maniera, da dietro, davanti, da sopra, da sotto, questo paese l'ho già amministrato e l'ho apportato al punto in cui ci troviamo. E poi la cosa divertente è che, come diceva prima giusto, che dietro un simbolo di lista civica questi signori continuano, imperterriti, a volere tirare le fila di questo paese. Sono attaccati alle poltrone, devono per forza entrare nel palazzo comunale. Noi non abbiamo questo tipo di pretese. Questi personaggi noi non li vogliamo più. Per questo dico misilmeri svegliatevi, perché vogliamo che bene andate, non vi vogliamo più. La misilmeri vera, la misilmeri pulita, la misilmeri onesta, non vi vuole, non vi vuole. E poi la cosa bella è che dietro il simbolo, dietro un candore semplice, vengono e vengono a dirvi noi siamo il cambiamento e ci vuole veramente coraggio. Come fanno a dire, a fare campagna elettorale e dire noi non vogliamo neanche mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Io per ultimo vi vorrei ricordare una cosa che mi ha colpito, perché queste persone che hanno in un certo senso diretto le file della politica misilmerese portando il paese nello stato in cui siamo, queste persone hanno determinato il fallimento di tante amministrazioni e questo volevo fare riferimento alla sentenza del Tarre, l'ultima sentenza del Tarre che ha reso legittimo l'aumento della Tarsu. La sentenza una parte dice che la determinazione sindacale era giusta perché in quella maniera si potevano equilibrare i debiti pregressi che emergevano dai bilanci consuntivi 2007-2009. Quindi dopo aver creato danno anche all'amministrazione del 2007-2009, ancora oggi, hanno il coraggio di venire qui e di mettersi dietro e dire noi siamo il cambiamento. E ci troviamo poi di fronte ad un paradosso, mentre da un lato c'è chi per amore di misilmeri ritira la propria candidatura, decide di non candidarsi più per non creare ostacoli, per non creare difficoltà al Paese, che dimostra attaccamento alle proprie radici. Ci sono altri che invece hanno comprato nel corso della loro storia chidi e chidi di attacca e non si possono staccare più da quelle portate. E allora, carissimi concittadini, ve lo chiedo di nuovo con il cuore in mano. Se volete un cambiamento, se volete che misilmeri ritorni ad essere una cittadina bella, come diceva Giovanna, che sia meritevole del decoro e del rispetto che merita, il 30 novembre e il primo dicembre votate per questo trentenne che è in realtà un compromesso, l'ha fatto pure lui. Ma lo sapete qual è il compromesso che ha fatto? L'ha fatto con voi il compromesso! Ma al primo momento, quando ci siamo visti Giovanni, ma il programma? Che dobbiamo scrivere in questo programma? Ma io prima devo ascoltare i cittadini, perché non è che ci possiamo sedere così e ci mettiamo a scrivere un programma? Non si è messo a studiare, non c'era qualcuno che gli diceva, senti guarda Giovanni, devi scrivere così, con telecamera, insieme agli altri amici delle associazioni, andava dalle persone, testimone io perché lo seguivo, andava dalle persone e ascoltava quali erano i problemi reali e per questo è stato in grado di fare un patto, un patto con la cittadinanza. Lui ha subordinato la sua presenza in politica al raggiungimento di alcuni obiettivi, 5 su 6, diversamente non si candiderà più. Mi chiediamo allora di darci la possibilità di metterci al vostro servizio e quello che vogliamo fare. Abbiamo tante idee, idee che nascono dal rapporto di collaborazione con ciascuno di voi, da tutto quello che abbiamo sentito e seguito nel corso di questa campagna elettorale. Noi vogliamo che Misilmeri torni a brillare, vogliamo che i nostri figli non ne abbiamo, tranne Vincenzo, noi figli non ne abbiamo. Allora diciamo che lo facciamo per i nostri figli degli altri. I nostri quando arriveranno? Ecco non abbiamo nessun conflitto di interesse, siamo liberi anche da questo. Pronti? Buonasera a tutti, grazie. Grazie a 2.549 elettori. 2.549. Erano già convinti di vincere. Addirittura qualcuno dice forse non vanno manco a ballottaggio. 2.549 voti autentici, senza alcun vincolo. Ieri sera sentivo nella loro autogestita che avevano già preso contatti con dei deputati regionali per avere dei finanziamenti dalla regione Sicilia. Ma perdonatemi, ma i giornali di Sicilia a Misilmeri arriva. Sì o no? La regione al verde è il nuovo mutuo da 2 miliardi. Ma a chi li chiedono questi soldi? Da chi li chiedono? Ma a chi li devono chiedere? Ho speso pure un euro e trenta, poi me lo rimborsi il sindaco. Parliamo di noi. Siccome oggi non avevo niente da fare, sono andato su Wikipedia. Wikipedia è un motore di ricerca dove ci sono alcuni cenni storici importantissimi e ve ne leggo tre. Il primo, i primi sistemi fognari furono realizzati a Londra nel 1852. Nel 1840 a Napoli si attiva la prima illuminazione pubblica. In Italia tra l'823 e il 31 vennero costruite a Lucca il primo acquedotto. Noi dopo cent'anni le nostre frazioni non hanno niente. Non c'hanno niente di tutto questo. Dopo cent'anni. Ma vi rendete conto? Ma di cosa stiamo parlando? Dopo cent'anni noi siamo ancora al 1800. Una cosa importantissima. Siamo stati gli unici che hanno parlato di sport, ma non perché la maggior parte delle associazioni sportive misimeresi sostengono Giovanni Lofranco. pensiamo ad una cosa. Lo sport per noi è crescita, lo sport è servizio, lo sport è opportunità gratis. Giustamente nello sport non ci trovi i voti, non ci trovi i soldi, quindi non li vanno a cercare i voti là. Noi diamo la possibilità ai nostri giovani attraverso dei progetti già ben definiti con la Marathon Misilmeri, con MTM, attraverso dei progetti già ben definiti. Noi togliamo i ragazzetti dalla strada, ma ci rendiamo conto dell'opportunità che stiamo dando ai misimeresi. Ma ancora dobbiamo scegliere tra Giovanni Lofranco e l'altro candidato sindaco. Abbiamo già scelto. Io voto Giovanni Lofranco. Credetemi, non ci sono dubbi che il 90% della gente che c'è in piazza ha già scelto Giovanni e lo sceglierà giorno 30 novembre e il primo dicembre. Il nostro messaggio deve essere unico, ma non soltanto il mio verso di voi, ma il vostro verso la gente che vi circonda, verso la vostra famiglia. Noi siamo davvero l'unico cambiamento. Se davvero ci teniamo a Misilmeri, non dobbiamo fare altro che andare via da qua e dire io voto Giovanni Lofranco. Grazie. La colpa è vostra. Siete voi che da settimane ci dite siete troppo buoni, non dite nulla, troppo fair play e questo è il risultato. I ragazzi mi hanno risentito e oggi si sono scatenati. Voi dovreste essere emozionati stasera e mi auguro che lo siate, perché voi stasera non dovreste essere qua. Perché questo comizio non si doveva fare. Ma sapete il perché? Perché c'era qualcuno che era convinto che a primo turno si dovesse decidere la competizione elettorale. C'era qualcuno che era convinto che il proprio sindaco doveva andare sopra il risultato delle proprie liste. Questo qualcuno non ha considerato il fatto che il proprio candidato potesse andare sotto le proprie liste di ben il 30%. Un elettore su tre che ha votato quelle liste non ha votato quel sindaco. Mentre noi siamo andati oltre il risultato delle liste. Che qualcuno si permette ridire? Ah, certo. Che vuoi con quelle liste? Ne vado orgoglioso di queste liste. Sono liste piene di persone per bene. Sono liste che hanno ricevuto il voto libero dei misilmeresi. Sono liste che non hanno nulla di cui vergognarsi. E quindi, in tutto questo siamo la terza lista. E allora io mi chiedo, perché è successo questo? Perché a un certo punto, mentre siamo a metà scrutinio e non so ancora come andrà a finire, mi cominciano a giungere telefonate e mi dicono, Giovanni, auguri, complimenti, sei al ballottaggio? E dico, no ma ancora siamo a metà scrutinio, ancora è lunga, io non voglio parlare. Mi dice, ma come? Già c'è la Stadarelli che ti attacca su TSE. Sei a ballottaggio? Come mi attacca? Come lei mi attacca? Io ancora non sono sicuro di essere a ballottaggio e lei già mi attacca. Non comprendevo perché io, che non fossi ancora certo del mio risultato, venivo attaccato da lei che sembrava avessi avuto un bel risultato. Bene, probabilmente in quel momento l'arrabbia dell'aver perso tanti voti rispetto alle liste e la paura di doversi confrontare un'altra volta da solo con me, ha fatto uscire la vera Rosalia Stadarelli. Perché vi devo dire la verità, io a Rosalia non la riconoscevo più, con questa flemma, con questa impostazione, con questa serenità. Io mi stavo preoccupando, mi ho detto, è lei, è Rosalia, è la Rosalia che conosciamo? O è un'altra? Figuratevi che una signora mi ha detto per strada, ma chi sei a solo la consigliera comunale? No, signora Ita, è lei! Ci scherziamo su. Io devo fare dei ringraziamenti, dei ringraziamenti col cuore, perché io non sarei qui stasera se non ci fossero stati dei splendidi consiglieri comunali della lista della nuova Misilmeri e di Rinnoviamo Misilmeri, fatta dall'amico Pino. Non sarei qua se non ci fossero state tante persone che ci hanno messo la faccia, tanti consiglieri comunali candidati, tanti uomini in giunta che si sono candidati dando la possibilità a me di poter essere qui al ballottaggio. Bene, noi abbiamo creato una vera e propria famiglia e questa famiglia oggi si allarga. Direte come mai si allarga? Vedete, secondo me non dobbiamo dare, non potevamo dare un'immagine arrogante dell'autosufficienza. Noi non siamo autosufficienti, noi siamo coscienti di avere fatto qualcosa di importante, ma siamo coscienti che non siamo autosufficienti. E se c'è una lista di persone per bene, di giovani che condividono il nostro percorso e questa lista è la lista dei cristiani in azione, noi non potevamo che apparentarci con loro. Non potevamo che farlo, proprio perché noi abbiamo il dovere di andare oltre gli staccati, come abbiamo fatto fino all'inizio, e accogliere tutti in questa famiglia. Bene, io sono convinto di una cosa, l'ho detto l'altra volta e lo ripeto, perché secondo me gira tutto attorno qui, questo paese, i misilmeresi, tutti noi, dobbiamo tornare a sorridere. Per troppo tempo è calato questa immagine cupa, triste, di misilmeri, per troppo tempo. Bene, noi dobbiamo ripartire... Noi dobbiamo ripartire da tutte le positività che fanno parte di misilmeri, da tutte le eccellenze che fanno parte e che descrivono oggi i misilmeri, ma soprattutto dobbiamo ripartire da tutto ciò che può muovere l'anima di misilmeri. Dobbiamo ripartire dalla cultura, dallo sport, non possiamo pensare solo ai servizi, ma soprattutto dobbiamo ripartire dal lavoro. E a questo riguardo io devo mettere una cosa in chiaro. La parola d'ordine dalla mia amministrazione sarà trasparenza. Questo sarà un palazzo trasparente. Un palazzo dove tutti i cittadini e tutti i dipendenti comunali saranno posti davanti i loro doveri e i loro diritti. Attenzione, non ci sono soltanto i diritti, ci sono anche i doveri. E soprattutto sarà un palazzo che darà la possibilità al fatto che non ci siano più cittadini di serie A e cittadini di serie B, che non ci debbano essere più i geometri di serie A e i geometri di serie B, che non ci debbano essere più i muratori di serie A e i muratori di serie B. Il lavoro qui ci deve essere e ci deve essere per tutti. Le concessioni edilizie vanno sbloccate, è chiaro, ma non vanno sbloccate per favorire l'ingegnere X. Vanno sbloccate perché è un diritto dei cittadini, è un diritto farsi la casa, è un diritto lavorare. Da questa sera noi abbiamo un aiuto in più. È una cosa che è stata virtuale per noi, è stata nel mio manifesto. Da oggi in poi camminerà con noi. È la matita, questo strumento di cui ho parlato tante volte. Noi da oggi distribuiremo queste matite girando per Misilmeri. E diremo a tutti, amici miei, questo non è un gadget, questo non è un ricordo, questo è uno strumento. La nuova Misilmeri si costruisce non con le pale, non con i pichi, non col cemento, si costruisce con questa matita. E la possiamo costruire soltanto con un impegno. Noi dobbiamo dare queste matite e dire a chi la diamo e responsabilizzarli e dire questo è uno strumento. Io te lo do a te, io te lo regalo, ma tu devi impegnarti a trovare altre tre persone, altri tre cittadini, altri tre Misilmeri che finora non hanno votato Giovanni e che ora sono pronti a votarlo. Grazie a questo semplice gesto, che magari qualcuno ci potrà anche sorridere su, del regalare la matita e dell'impegnare l'altra persona, noi riusciremo a veicolare un messaggio importante, che la nuova Misilmeri, questa rivoluzione misilmerese del 2014, passa dalla cabina elettorale, passa da questa matita, che attenzione non deve essere usata per votare, questa la tenete a casa e ci ridete su perché altrimenti ci annullano il voto e non ce lo possiamo permettere, però la matita simboleggia il cambiamento, simboleggia l'unico strumento di cambiamento per Misilmeri. Dovete dire una cosa a tutti e così concludo e vi lascio alle vostre scene, dovete dire cari misilmeresi siamo davanti a un vivio e ci sono tre strade, una porta a noi, a questo progetto, alla nuova Misilmeri, una porta agli altri, che nuovi non sono, la terza strada è quella dell'astenzionismo, la più pericolosa, la strada di tutti coloro che non sono andati a votare l'altra volta e che non vogliono andare a votare la prossima. Bene, noi a tutti loro ci dobbiamo rivolgere, perché noi, vi ricordo che non abbiamo un voto strutturato, noi non abbiamo un sistema, noi non abbiamo promesse, noi abbiamo la gente libera, noi abbiamo il nostro affetto, abbiamo le nostre idee, abbiamo i contenuti con i quali abbiamo costruito e vogliamo costruire una nuova Misilmeri, proprio per questo dobbiamo andare a tutti coloro che non sono convinti, che non vogliono votare e convincerli e spiegare che dal 2 dicembre non si devono più lamentare, perché loro hanno la possibilità di cambiare questo paese e lo devono fare il 30 e l'1 dicembre, altrimenti non si lamentino più, si stiano a casa e non parlino più. Io vi lascio con una frase, la frase di Paolo Coelho e vi lascio per questa ultima settimana di campagna elettorale. Paolo Coelho diceva, il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni. Grazie Misilmeri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cos'you're a sky